Benvenuti a Lazio News, il vostro punto di riferimento per le ultime notizie sul calcio. Assicuratevi di mettere un mi piace e iscrivervi al canale per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la Lazio. Dalla partenza di Iglitare, una delle principali sfide della Lazio è stata trovare un sostituto all'altezza per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Tuttavia, sembra che questa ricerca stia giungendo al termine. Secondo informazioni riportate dal Corriere dello Sport, il presidente del club, Claudio Lotito, ha indicato Angelo Fabiani come favorito per assumere la posizione. Sebbene la decisione non sia stata ancora ufficialmente annunciata, fonti interne affermano che Fabiani è in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo della Lazio. L'annuncio ufficiale è previsto per i primi giorni di luglio, quando la dirigenza intende rivelare il nome scelto. Ehi tifoso bianco celeste, cosa ne pensi di Angelo Fabiani come sostituto di Tare? Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per la Lazio.